Inizia la partita al Milan, siete pronti a viverla con noi? Siamo molto emozionati, l'arbitro è guida? L'arbitro è guida, comincia in questo istante il derby, palla di Guaini indietro verso Chessi, retropassaggio con la palla che arriva nella metà campo del Milan, Romagnoli allarga, gioco sulla sinistra per Rodriguez, avanza pressing nerazzurro, retropassaggio di Narciso e poi la palla ritorna da Donnarumma, il portiere più forte del mondo. La manda sulla sinistra per Rodriguez, il colpo di testa non è preciso, recupera l'Inter, poi Romagnoli sovrasta Perisic, anzi no, si trattava di Nainggolan. Molto aggressiva l'Inter, pronti via, tutti addosso alla difesa del Milan, cambia niente. Poi la palla... Romagnoli sovrasta tutti, Cutrone lo stop, la dà all'indietro per Biglia, adesso siamo messi meglio in campo, sento un buon odore Fabio. Perché magari... Il Pasone ha ancora che Brozovic e gira verso Versalico, sì tanto predominio, ma stringi, stringi. Fabio comincia a sentire un buon odore. Ecco. Ai 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 ai, stai buono, stai buono Cristiano. Vanto Ruiu si ispiraccia, non è mai una buona notizia per il Milan. Stai un dato in avanti. Martinelli, hai fatto un anno fallimentare. Stai ne, attenti al Milan, dai vediamo. Fallo su Keita, ragazzi. Fallo su Keita, però non... Keita balde. Anche in questa occasione c'è l'Inter che è costantemente nell'area di rigore del Milan. Mi sembra che abbiamo un po' finito la birra all'Inter. Ma insomma giudicare questa azione non è mica tanto, dice anche Martinelli. Diciamo che se finisse 0-0, come ha detto Stefano Fisico, mi sa che firma anche Martinelli a questo punto lo 0-0. In tempi non sospetti. Solo per un motivo. Si avvicina all'area, Suso dentro, Higuain non capisce, ma fallo. Punizione molto interessante. Fallo di Scrinia su Suso. Scrinia si lamenta dicendo non ho fatto niente. Siamo al verticellare di rigore. Vediamo se ha ragione o meno che... Non ho fatto niente. È nettamente fallo di Scrinia. E questo fallo sarebbe davvero beffardo per l'Inter prendere il gol. Allora, e viene battuto in questa situazione, che è una situazione praticamente non facile, perché si può tentare sia un improbabile, mi pare, tiro direttamente in porta, ma anche un passaggio per il tiro o la parla in mezzo. Non so se direttamente da quella posizione tenti... Un bel mancino. ...volarsi che Suso tenti di metterla all'incrocio, diciamo. Un bel mancino. Vediamo. Ovviamente si incarica Suso e la battuta spruzza guida per far rispettare la distanza alla barriera. 83esimo minuto. Sarebbe davvero una beffa per l'Inter prendere il gol adesso. Meglio così, angolo. Allora, calcio all'angolo per il Milan. Siamo là a sinistra adesso di Andanovic. Certo, sarebbe davvero farvi una beffa prendere il gol per l'Inter adesso. 84esimo minuto. Sarebbe giusto. La quarta volta che lo dici. No, la decima. Baccaio Co come andrà. Ma pensa Fabio se Milan vince il debito con gol di Baccaio Co. È molto difficile, praticamente impossibile. Battesuso, 85esimo minuto. La palla spiove. Di testa la prendono loro, ma ancora angolo. Ancora angolo. E Milan chi chiude in avanti. Sarebbe davvero beffa un gol di Baccaio Co appena entrato nel finale. 85esimo Suso. È impossibile. Battere l'angolo, palla spiove di... Andanovic la prende con sicurezza davvero il Milan sulle palle inattive e poca roba. Palla fuori ed Evrai. Rimessa dalla bandierina del corner offensiva del Milan che ha detto un po' la pressione. Sarebbe davvero una beffa a fargli gol adesso. Rimessa laterale per il Milan dalla bandierina di sinistra. Ancora con Buonaventura. Si fa vedere Cutrone, il movimento di Guain. Jack la dà indietro. Non c'è nessun appoggio facile. Allora Biglia. Spalletti sta dando di matto. Molto preoccupato Spalletti. Ha capito come finisce. Urca che rischio per Milan. Un errore di Biglia. A momenti della palla ai cardi. Calabria. Lo facciamo adesso e ci chiudiamo. Dai. Calabria. Aspetta troppo per effettuare il traversone. Suso, il suo movimento elegante. Sinuoso. Baccaio Co. Un disastro. Baccaio Co. La palla. Poi recupera e a zoppo l'aggressario. Poi commette anche quando viene anche a buonissimo Baccaio Co. Brozovic ancora De Vrai. Anche l'Inter è abbastanza cotta. In questa fase bisogna sferare almeno l'ultimo salto. Tenere palla soprattutto. Attenzione ancora Candreva. Che prova a girare il pallone in avanti. Dove c'è Vessino. Ah! Gol del linte! 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 Icardi! Icardi! Clamoroso orrore di Donnarumma! Ma io! Ma io! Clamoroso orrore di Donnarumma! Uncita a far fare di Donnarumma! No! Clamoroso orrore di Donnarumma! Sarà bella la peppa di fargli il gol adesso! Gol di Icardi! Se l'è tirata a Ruiu! Se l'è tirata a Ruiu! Ma grande Donnarumma vuoto! L'onda, 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 l'onda! Icardone! È troppo godevole! Allora c'è un cross di Vessino. Donnarumma fa una cosa criminale. Criminale. Completamente a farfalle. Un errore di una gravità inaudita. Allora guardate, qui c'è Vessino che ha la palla. Vessino fa partire la traiettoria. Esce Donnarumma pensando di prenderla. Sbaglia tutto, si ferma. Icardi sbuca tra i due centrali dell'Inter e fa gol. Vediamo se adesso il Milan in un minuto e mezzo. O due minuti, ma ci sarà qualcosa da recuperare. Ovviamente perché il gioco è stato interrotto a lungo dopo il gol. Se Milan proverà un disperato gol dell'ultimo secondo. Ancora però la palla è viva. Prova l'Inter a difenderla. La recupera il Milan a tempi. In campo l'Inter per fortuna da Milan. Suso subisce il pallo. Pallo sfuso. Pulizione. Pulizione per il Milan. E' l'ultima occasione. Che derby. Pulizione qui per il Milan. Tutti in area di rigore a saltare. Dovrebbe andare anche Donnarumma a fare gol di testa per farsi perdonare. Anche Donnarumma va a saltare Fabio. Siamo al 94. Anche Donnarumma in area. Dai Gigio riscatta ti ti prego. Allora tengo a dire che però è giusto dare almeno un minuto di recupero in più. O un minuto e mezzo perché è gol di gol. Credo che sia questa l'ultima occasione. Quindi si mette la palla dentro. Qui finisce il derby. Vediamo. Si rincarica col Mancino Suso. Uno in barriera per l'Inter. Tutto il Milan nell'area. Tutto il Milan nell'area nerazzura. 90 quattresima e 30. parte Suso con il Mancino. Parte Suso con il Mancino. Il fischio di guida. La palla che spiove sul secondo palo. Di testa baccaio cola. La palla che resta lì. Rinviano loro. Dai. Finita. 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 E vai. E vai. E vai. E vai. Meritatissima servitoria. Grande. Grande Inter. Grandissimi. Fammi le abbraccia di tutti. I miei cuori nerazzurri. Il mio professor Castiglione. Che mi ha contestato spalletti a ogni cambio. Però hai visto che cantereva e ci ha portato bene. Meritatissima. Allora. Grandissimo. Tu sei ricco. Ti abbraccio solo perché sei ricco.